Cuneo 7 apre la sua edizione settimanale parlando del clima post-elettorale. Questa infatti sarà una serrata settimana di trattative per le poltrone di Assessore e Presidente del Consiglio. Il duetto Udc Crescere Insieme fa sì che anche la nuova amministrazione Borgna si scontri con il cosiddetto manuale Cancelli. Garelli, sconfitto al ballottaggio, sottolinea, è una pessima partenza. In secondo piano la grave situazione economica del gattile di Madonna delle Grazie, frazione di Cuneo. Il Comune infatti gli ha tolto il contributo. A causa di ciò la struttura privata non riesce più a far fronte agli impegni e alle spese di gestione. Saluzzo oggi dedica la sua apertura settimanale alla questione dei tagli al trasporto ferroviario. Alla manifestazione organizzata contro la soppressione della linea Saluzzo-Savigliano-Cuneo c'era poca gente ma non mancavano i cartelli contro il Presidente della Regione, Roberto Cota. Questi ultimi hanno scatenato i leghisti all'attacco contro il Comune. In definitiva comunque l'appello di risparmiare l'asse ferroviario è rimasto nel vuoto. In secondo piano il Consiglio Comunale di Barge, che è stato davvero molto rovente. Durante la prima assemblea del Colombatto-Bis è già polemica, soprattutto sul nuovo Presidente dell'IPAB. Bra oggi parla in primo piano dell'iniziativa promossa in città dal quartiere oltreferrovie e dai commercianti. Consiste nella pulizia di via Piumati, realizzata in collaborazione con le scuole elementari. Un intervento straordinario che vuole dare un insegnamento di civiltà ai giovani studenti. Infine, focus sull'incontro dedicato all'IMU, organizzato dal senatore Davico nell'auditorio in Dicherasco. La sala era gremita di gente, tra cittadini e militanti del Carroccio. All'appello mancavano i sindaci del territorio, che hanno così disertato l'invito di Davico a partecipare.